Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale youtube da Simone Pasqua La Ternana ha pareggiato 1-1 contro la Cavese Partita aperta dai Rossoverdi nel primo tempo grazie al gol di Damian Poi subito dopo il pareggio della Cavese Poi la Cavese ha rischiato di andare in vantaggio Poi nel secondo tempo un gol annullato alle fere E un calcio di rigore sbagliato da partipilo per i Rossoverdi Una partita tutto sommato equilibrata dove hanno giocato bene sia la Ternana che la Cavese Purtroppo una partita non vinta dai colori Rossoverdi per degli errori Perché oggi si può parlare di errori nel momento che sbagli un calcio di rigore E ti annullano un gol Quindi è più una partita persa per degli errori che per altro Una partita difficile, una partita comunque giocata tutto sommato discretamente Sono stati bravi anche loro però troppi errori da parte della Ternana Quest'oggi che hanno fatto sì che non ha reso al massimo come ci si poteva aspettare Soprattutto in una partita così difficile Ora la Ternana vede molto probabilmente allungare la distanza dalla Regina E probabilmente vede anche molto di più da vicino la lotta per il secondo posto Perché la classifica per i Rossoverdi si sta accorciando Quindi insomma era una partita oggi importante anche per la classifica Purtroppo non è arrivata la vittoria tanto sperata dai colori Rossoverdi Sarà per la prossima partita speriamo Alliberati in casa contro Riedi per l'inizio del girone di ritorno E per l'inizio ovviamente della seconda parte di campionato